Mi trovo a Cannalonca, provincia di Salerno, presso la sala socioculturale in occasione dell'incontro di riflessione sul Vangelo di Matteo, portato in scena dal gruppo teatrando dell'oratorio di Santo Ribbio. Buonasera a tutti. Adesso riprendiamo il nostro viaggio all'interno delle scritture. L'evento naturalmente è in linea con il tipo di attività che Don Luigi sta facendo in questo paese. Partendo dalla promozione culturale per arrivare a quella umana e a quella sociale, queste manifestazioni non solo alimentano la genuinità della vita cristiana ma rendono il paese più unito, fanno comunità a prescindere. Certamente il nostro intervento è proprio questo, utilizzare la musica, soprattutto la musica sacra, a commento dei vari passi evangelici che sono stati proposti questa sera. E quindi il connubio tra la musica e il passo evangelico fa sì che l'ascoltatore possa riflettere ancora maggiormente durante l'esposizione del Vangelo stesso. E quindi il nostro viaggio all'interno delle scritture. Sì, sì, ci ha invitato e noi siamo venuti davvero volentieri per Don Luigi e siamo stati proprio felici di partecipare a questo evento. Noi siamo il coro della nostra parrocchia di massa ed è la prima volta che siamo uscite. Sì, è la prima volta in transferta, proprio per Don Luigi. Sì, è la prima volta in transferta, proprio per Don Luigi. Sì, è la prima volta in transferta, proprio per Don Luigi.